Ben ritrovati da Marigliano, settima giornata, Uova Napoli contro Lazio, calcio a 5 Zurra che attaccherà da destra verso sinistra, Lazio in arancione, da sinistra verso destra Attenzione all'iniziativa con il palo, credo di Tanigna Attenzione, palla al centro, la palla resta lì, Vacchia ci mette una pezza, Tanigna L'avvantaggio della Lazio Attenzione all'occasione per Ciccarelli Uomana ad un passo dall'1-1 Intanto il sinistro, poi Vitale La capolista state, domenica scorsa per 3-0 Intanto Tanigna, palla per Pineiro che ha la chance della 2-0 Anzi non era Pineiro Il lancio di Ciccarelli per Vitale, colpo di testa Ciccarelli orchestra questo contro il piede, palla per Raveoli Veira che poi calcia male Sciascia con la sinistra, la deviazione di Tanigna sotto porta E la raddoppio alla minuto 11 della Lazio con la doppietta di Tanigna Sciascia anticipata da Pugliese Va via Ciccarelli, la finta Ciccarelli sul fondo Copolletta, riparte Grieco Che apre il destro, Macchia Il sinistro, ancora di Grieco Ancora Grieco e questa volta ci riesce 3-0 Lazio Intanto il gol è stato annullato Replay E arriva il 3-0 Anzi no, di Sabatino 3-0 E la gola Di Grieco Il primo tempo con la Lazio che conduce per 4-0 De Oliveira Cipolletta La traversa e il palo Traversa e palo Ancora De Oliveira al centro per Cipolletta Poi De Oliveira Si gira 3-3 Il destro di De Oliveira Poi De Oliveira Va via De Oliveira Tirelli Poi Cipolletta Ci prova Ciccarelli E la uova a Napoli Accorcia le distanze Lancio con Macchia Che anticipa Poi ancora Agnello 5-1 Lazio Ciccarelli Lancio per Vitale Di testa Il gol Di Rossella Vitale Che anticipa Tirelli E la uova a corcia Sulla 5-2 Poi L'intervento di Tirelli Su Ciccarelli Calcio di rigore Per la uova a Napoli Tirelli Vitale Parte col destro Il gol Di Rossella Vitale Che questa volta Non sbaglia Apre l'addestro La barriera Poi Ciccarelli Sul fondo La macchia Attenzione che Arezzo è sola Il tacco La traversa Lì contro Lì contro Il piede Lazio Con Il gol Di Grieco Che mette Il punto Esclamativo Al match Woman Ad un passo Dal 5-4 Arriva Il 6-3 Di Grieco Beita È sola Beita Palo Ancora Lazio Finisce qui La Lazio Espugna Mariano 6-3 6-3 Grazie 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 Grazie